Salve e benvenuti ad un nuovo video di Rosenberg e Rossi. Mi chiamo Slavko Mucic. Oggi mi trovo al Service Point di Ashburn e per questo video ho invitato il mio collega Norman Ingler. Norman, tu sei il responsabile dei team della nostra area assistenza. Esatto, sono il responsabile per l'assistenza nel Team Sud. Sono tra l'altro responsabile della pianificazione del team ma lavoro anche in loco presso diversi clienti e gestisco anche alcuni progetti proprio così. Ok, questo significa che hai a che fare ogni giorno con quanto accade nel data center? Esattamente, questo è anche il motivo per cui ti ho invitato oggi. Di recente abbiamo avuto un web talk con uno dei nostri product manager, Ronnie Mess, per parlare dell'attensamento nel data center server verso Rack Etsy. Abbiamo discusso di un aspetto, precisamente della gestione dei pannelli ad alta densità, cioè porte per ogni unità di altezza. Com'è la gestione quotidiana dei team operativi nel data center? Quali sfide devono affrontare? È di questo che oggi intendo discutere brevemente con te. Magari lo facciamo osservando uno dei nostri rack di rete che abbiamo qui nello showroom. Analizziamo a cosa prestare attenzione per un incremento rispetto alla normale densità di porte. Diciamo 24-48 porte per 1U. Molto volentieri, entriamo nel dettaglio. Diamo un'occhiata più da vicino ai connettori. Qui, sul nostro pannello SD a 24 porte, abbiamo i connettori LC Compact, in cui, come si può vedere, l'innesto è facilmente accessibile. Posso anche alentarli e inserirli con estrema facilità. Questo aspetto è molto importante per l'installazione. Lo stesso vale per il nostro pannello SD a 48 porte. Posso accedere molto facilmente anche allo sbloccaggio e alentare e inserire agevolmente i connettori. Qui, ad esempio, nel pannello UAC di A96 porte, vediamo già che non riesco più a raggiungere facilmente con il dito i connettori LC Compact, che hanno già una certa densità, avrei già bisogno di utensili speciali. Arriviamo quindi al connettore push-pull-boot, facile da sganciare, tirandolo anche con una densità molto elevata. Significa che è sblocato sulla protezione antipiega? Si sblocca sulla protezione antipiega, esatto. Qui sotto abbiamo un altro esempio perfetto di quanto tutto è pieno di patch. Una condizione che si osserva di solito in loco presso il cliente. Anche in questo caso è possibile accedere con estrema facilità al connettore. Sì, inserire e sbloccare il connettore è davvero molto facile. La manipolazione è molto facile, proprio così. Proprio così. Magari ci puoi far vedere anche la bacchetta push-pull. L'abbiamo avuta nel nostro portafoglio per un certo tempo, poi abbiamo tuttavia deciso di toglierla. Magari puoi mostrarci nuovamente per quale motivo. Molto volentieri. La bacchetta push-pull è di fatto una specie di antenna che si tira ulteriormente per sganciare il cavo. Qui la si può vedere bene in dettaglio. Ecco come appare. Naturalmente, come abbiamo detto, a proposito della densità si tratta di materiale aggiuntivo e anche di spazio sprecato. Ci sarebbe anche un secondo problema. Quando alentiamo il cavo e desideriamo estrarlo da qui sopra, la bacchetta agisce come un amo da pesca rimanendo incastrata qui. Sì, si infiglia subito. Sì, se bisogna toglierla rapidamente diventa naturalmente un ostacolo. Chiaro, è logico. Proprio così. Bene, Norman. Grazie per averci dedicato il tuo tempo. Grazie per l'approfondimento sull'attività quotidiana nel data center. Spero che gli spettatori abbiano imparato qualcosa. Grazie mille. Prego.